Allora, io sono Donatella, sono delegata della FIOM a Largo Trattors qui a Fabbrico, Reggio Emilia. Allora, diciamo che, cari compagni e compagne, io penso che viviamo in un periodo storico molto complicato, dove assistiamo a una sempre maggiore conferma che l'attuale sistema di sviluppo economico e sociale risulta essere inadeguato per la sostenibilità sia delle persone che dello stesso pianeta. Ma contemporaneamente non vediamo ancora crescere adeguatamente la consapevolezza e il coraggio per affrontare una seria discussione per un suo cambiamento sostanziale. Le problematiche che dovremo affrontare nei prossimi anni saranno tante e complicate, ma vorrei dedicare il mio intervento alle questioni di genere, in quanto donna lavoratrice e delegata sindacale, nella speranza che in un futuro prossimo tali questioni non debbano più essere affrontate per genere, ma solo per classe sociale. La CGL è un'organizzazione sindacale e come tale potrà cercare di cambiare la società attraverso la contrattazione delle condizioni lavorative e salariali delle donne all'interno dei luoghi di lavoro, sperando che tali buone pratiche coincidano con i cambiamenti sociali. Qui a Reggio Emilia ho partecipato con molto interesse e piacere a diverse iniziative organizzate sia a livello di categoria che di Camera del Lavoro. E da questi incontri sono venuti fuori una sintesi di punti che secondo me sono fondamentali e che dovranno essere affrontati. Innanzitutto, combattere la discriminazione strisciante dentro e fuori i luoghi di lavoro, fatta spesso anche solo con le parole, mentre ascoltiamo un uso di vocaboli stereotipati e svalutanti, se non nei casi peggiori, e ci sono, si passi anche a subire molestie o restringimento delle nostre possibilità di avanzamento professionale. Per questo motivo ritengo importante la modifica effettuata nel 2021 del Codice delle Pari Opportunità, che estende l'obbligo anche alle aziende con almeno 50 dipendenti di compilare i rapporti che ci possono fornire la fotografia della situazione occupazionale femminile. Attraverso l'analisi di questi rapporti potremo verificare in modo imparziale la nostra condizione lavorativa, suddivisa per genere, inquadramento e retribuzione. E' novità sempre legata a questa modifica legislativa, si potrà analizzare in modo dettagliato la retribuzione, avendo l'obbligo l'azienda di scomporre i dati retributivi fra componente fissa e variabile, premi di produzione e incentivi vari. Spesso negli indicatori dei premi di risultato vengono concordate indennità orarie che non vengono calcolate sui periodi di estensioni per maternità, concedi parentali e addirittura legge 104. Un esempio anche nella mia azienda. E non ultima, nel rapporto le aziende dovranno anche essere trasparenti sui processi e gli strumenti di selezione e reclutamento e accesso a funzioni manageriali. Da qui nasce anche l'importanza di estendere i tavoli paritetici di confronto tra azienda, RSU e organizzazione sindacale su questi temi. Inoltre, occorre dare sempre maggiore importanza a vita, lavoro e benessere. Questo vale per noi donne, ma non solo, perché voglio ricordare a tutti i presenti che questi valori sono importanti per tutti e per tutte. Ma purtroppo i dati ci danno ancora come le maggiori sostenitrici del lavoro di cura all'interno degli ambiti familiari, figli ma anche anziani. E per questo non dobbiamo smettere di pestare i piedi e di chiedere con forza. Prima di tutto, maggiori esili nido, pubblici e gratuiti, materno obbligatoria e tempo pieno nella scuola dell'obbligo. Questo aiuterà non solo la formazione e la socializzazione dei nostri figli e figlie, ma anche la possibilità a noi donne di essere supportate nella gestione nelle nostre occupazioni lavorative, facendo attenzione però a chi vengono dati in gestione poi queste strutture pubbliche. In particolar modo io qui faccio solo questi piccoli incisi. Stamattina abbiamo ascoltato l'intervento di Bonaccini, che ha fatto un bellissimo escluso, ma lascio a voi di giudicare, però ha dimenticato un argomento fondamentale. Sembra che qui l'unica soluzione, visto che parliamo di welfare, e a noi ci interessa come donne il welfare, che sia tutto risolvibile con il PPNR, con i fondi. Ma non si è parlato di riforma fiscale. Perché? Perché qua ricordiamoci che per pagare il welfare ci vuole la raccolta fondi, quindi dov'è il problema della flex tax? Dov'è sulle partite IVA fino a 85 mila euro? Dov'è la proporzionalità dell'IRPEF, tra l'altro sancita anche nella nostra Costituzione? Cambiare l'attuale visione di welfare che scarica le problematiche alla spesa privata delle famiglie e molto spesso sul lavoro domestico femminile, la gestione della cura. Ricordiamoci che anche questa condizione rappresenta una discriminazione di genere e generazionale, ma soprattutto una discriminazione di classe. Infatti, chi è benestante e spesso, fateci caso, coincide con chi appoggia questa visione di welfare privato a pagamento. Chi è ricco gli va benissimo. Non ha nessun problema risolvere la cosa attraverso lo sfruttamento di lavoro precario e magari sottopagato, spesso di altre donne, magari migranti, o sotto ricatto economico. Chiedere di estendere i limiti temporali del congedo parentale obbligatorio pagato al 100% anche per i padri. Perché la cura dei figli deve essere condivisa per il bene di noi donne, ma anche per uno sviluppo emancipato della nostra società al di fuori dei vecchi stereotipi del patriarcato. In questo ambito ci sta anche la piaga dell'utilizzo del part-time, soprattutto da parte femminile, perché a rinunciare siamo ancora noi, che abbiamo di solito un salario più basso rispetto ai nostri compagni uomini. E da cosa nasce cosa? Siamo costretti a dar minore presenza e disponibilità sul lavoro. E questo significa minore riconoscimento delle nostre mansioni. E come un cane che si morde la coda, le nostre retribuzioni restano più basse. Questo circolo vizioso va cambiato. E di conseguenza, se noi lavoriamo meno, abbiamo il part-time, ma abbiamo anche meno in pensione. Quali sono gli strumenti che abbiamo per poter cercare di modificare la situazione? Ma, difficile. La CGL è un'organizzazione sindacale, come tale potrà cercare di cambiare la società attraverso la contrattazione nelle condizioni lavorative e salariali delle donne all'interno dei luoghi di lavoro, sperando che tali buone pratiche siano di spinta ai futuri cambiamenti sociali, ma anche e soprattutto attraverso il coinvolgimento alla partecipazione, che significa continuare a parlare con le persone, cercando di far loro distinguere la realtà reale da quella percepita attraverso i media. La nostra arma, innanzitutto, è il contratto nazionale, e ascende dove è possibile con i contratti aziendali. Un esempio pratico è stato dato nell'ultimo rinnovo del CCNL metalmeccanico, dove per la prima volta è stato inserito un articolo teso a migliorare le condizioni delle donne vittime di violenza, estendendo il periodo di assenza dal lavoro retribuita da tre a sei mesi, con la possibilità di usufruirne anche a ore, aggiungendo la possibilità di chiedere lo spostamento in un'altra unità produttiva, se presente, per allontanarsi dal luogo della violenza, e infine corsi di formazione per facilitare il rientro al lavoro. Altro capitolo che ci deve stare a cuore è la lotta al precariato. Le indagini dei dati sull'Italia ci parlano di un precariato ancora molto diffuso e a maggioranza femminile e giovanile. Non avere un lavoro stabile significa essere maggiormente sacrificabili nell'ambito della famiglia. Stai tu, stai a casa tu, io rischio di perdere il posto fisso. Quante volte i nostri compagni o fratelli ce l'hanno detto, quando ci siamo trovati a decidere come riempire i vuoti nella gestione dei figli o di una malattia di un venitore, o come forma di ricatto nei casi di problemi di violenza e soppluso familiare. Su questo argomento la lotta da quest'ultimo si farà ancora più dura, visto l'introduzione dei voucher che tornano ad essere applicati nelle stesse condizioni del 2012, cioè prima della loro abolizione del 2017 e contemporaneamente l'aver diminuito i vincoli alle aziende per l'utilizzo dei contratti a tempo determinato. Vi ricordate la finta lamentela dei ristoratori, degli albergatori, delle altre categorie di servizi? Ma questo non mette a riparo neppure il settore industriale come quello rappresentato nella mia categoria, che non trovano più gente da assumere? Allora è stata data una risposta. Noi lavoratrici e lavoratori direi proprio di no. Il precariato è un danno per la società tutta. Oltre alle donne ci sono giovani che vengono sfruttati senza possibilità di futuro. Com'è importante ricordare il tema dell'alternanza scuola-lavoro, visto le morti sul lavoro che vanno ad aggravare una situazione generale di sfruttamento. Spero, e vado mai e concludo, spero che questi temi continuino la discussione nel proseguimento delle varie assemblee di questo congresso, non solo per mano delle compagnie, ma con l'aiuto dei compagni. E ribadisco il mio pieno appoggio a partecipazione al prezioso lavoro svolto nel gruppo Rete Donne CGL della Camera del Lavoro di Reggio, come nel gruppo Delegate della FIOM. E concludo con questa frase, non mia, ma che dedico a tutti e a tutte. Contrattare significa, prima di tutto, aver consapevolezza di sé e del valore che abbiamo a disposizione. Per la collettività delle donne significa affermare nuovi criteri di attribuzione del valore e rendere possibile l'oggettiva presenza nella vita reale. Grazie e buon congresso a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.